Oggi il Pigugno vi abbiamo portato ai piani della Cavallassa, che sono questi qua dietro di me. Qui sopra c'è la Cavallassa piccola e dietro c'è la Cavallassa. A destra della piccola Cavallassa c'è la Tognassa. Qui sopra durante la Grande Guerra correva il fronte e la linea italiana. Ai piani della Cavallassa invece c'era un villaggio di soldati che serviva poi per portare i rifornimenti alla prima linea. Adesso invece è il regno di vipere e mucche e di sera magari qualche lupo, folletto. Qui a sinistra potete vedere lo spettacolo delle pale con il maestoso Simón della Pala. Questo è tutto, vi salutiamo. Ciao ciao!